Musica Nessun posto migliore per lanciare una manifestazione come la tua Giancarlo Siamo al Kennedy Space Center vicino ad Orlando, Cape Canaveral e guarda chi incontriamo qui Giancarlo Faltoni che è il presidente dell'aeroclub Trasimeno, ente e associazione che organizza il meeting di primavera siamo alla 17esima edizione, proviamo ancora a rilanciare questo meeting nonostante l'età e quest'anno lo rilanciamo con qualche bella novità la presenza dell'AG con i loro aerei storici, esibizioni e dimostrazioni in volo da parte delle aziende che parteciperanno e avremo anche altre piccole interessante iniziative un gruppo, i Panther Club di Cortona che faranno delle rievocazioni storiche sulla seconda guerra mondiale con uomini e mezzi in divise dell'epoca realizzeranno un paio di accampamenti e ci dimostreranno un po' come era la vita dell'aeroporto Luteri nei tempi della scuola caccia avremo poi altre cose, giochi volanti, iniziative serali, spettacoli, musica e chi più ne ha più ne metta, quest'anno veramente un meeting frizzante e lo presentiamo in un posto così importante, così interessante, così cosmico che è una sorta di gemellaggio tra il Kennedy Space Center e il Castiglione del Lago Ecco, naturalmente c'è possibilità anche di dormire di alberghi non ce ne sono tantissimi e di gente ce n'è tanta e poi c'è possibilità anche e soprattutto di mangiare io ho mangiato tante volte, ho mangiato sempre bene per cui possiamo lasciare a casa il bicarbonato, vero? Decisamente sì, anche perché per quanto mangiamo abbondantemente quello che mangiamo, le pietanze sono tradizionali cucinate in maniera tradizionale da cuochi esperti al ristorante del meeting e per quanto riguarda l'ospitalità di Castiglione del Lago è molto ampia dal punto di vista territoriale ci sono tanti bellissimi agriturismi, ci sono tante strutture in grado di ospitare masse consistenti di persone ovviamente il periodo è un periodo intenso perché c'è il ponte del 25 a ridosso del 1 maggio consigliamo di prenotarvi in tempo quindi decidete subito e venite al meeting immediatamente vi aspettiamo Benissimo, allora lanciamo il meeting dal Kennedy Space Center qui davanti al Saturno 5 che fa veramente impressione che non è poca cosa quindi un bel lancio in un posto dove sono veramente esperti di lanci ok, grazie a te grazie a te grazie a te